Lui era già dietro le sbarre ammanettato in flagranza mentre spacciava nel bar chiuso per lockdown ed adesso ha ricevuto la comunicazione del nuovo stato di fermo in carcere. Adesso le manette sono però scattate anche per la moglie che dovrà rispondere anche lei del reato di spaccio di stupefacenti. La coppia è entrambi 45 anni, gestori di un bar in zona Villaggio Dante ad Arezzo, infatti secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel tempo aveva messo in piedi un vero e proprio business al dettaglio di spaccio di cocaina rifornendo numerosi tossicodipendenti a retini. Le indagini svolte tra il novembre 2019 e il febbraio 2020 hanno infatti permesso ai carabinieri di certificare con tanto di riprese video le tantissime e quotidiane cessioni di droga che due perpetravano nell'arco delle 24 ore dentro e nelle immediate vicinanze del bar. Ieri il GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo, su richiesta del PM Chiara Pistolesi, ha così emesso il provvedimento di custodia cautelare che i carabinieri hanno notificato all'uomo presso un carcere della Toscana dove si trova già in stato di detenzione e alla donna incensurata che dovrà invece restare in regime di arresti domiciliari. Entrambi attenderanno nei prossimi giorni le decisioni dell'autorità giudiziaria sulla loro libertà. Grazie.